Quindi da una parte c'è il discorso del rifiuto, e dall'altra parte c'è tutto quello che diventa scarto, credo che siano due concetti differenti, no? E mai il discorso del tutto gratis è esattamente quell'ambito in cui i nostri scarti possono riprendere scarti in quel senso, possono riprendere vita, riprovare una loro collocazione e magari risolvere anche dei problemi ad altre persone. Guarda, io mi sono entusiasmata quando ho visto le prime esperienze nord-europee in Austria, che sono partiti con grande successo, dopodiché è arrivata anche a Bolzano, a Bolzano si chiama Passamano. In cosa consiste un negozio tutto gratis? È un luogo, non è un'impresa, non è business assolutamente, è un luogo fatto anche chiaramente in partnership con le istituzioni, perché ha bisogno di trovare un luogo gratuito che non abbia spese di affitto, magari solamente appunto di manutenzione più che altro che di utente, dove le persone portano tutto quello che viene considerato scarto. Esempio? Esempio, il vestito che è morto lì da dieci anni nell'armadio, le scarpe, piuttosto che il libro, piuttosto che elettodomestici, mobili, di qualsiasi tipo di oggetto che in una casa è diventato inutile, che potrebbe invece aiutare, sostenere, o magari anche solamente divertire altre persone. Quindi diventa un luogo assolutamente di scargo, c'è un impegno etico da parte del cittadino, non so, non posso prendere più di cinque oggetti alla volta, non posso ritirare più di tre oggetti alla volta, mi impegno a non rivenderli. Diventa un rapporto, capisci, anche di convivialità, di solidarietà tra le persone. Non a caso il successo di questi luoghi avviene soprattutto nei quartieri popolari, le utenze sono in maggior parte studenti, stranieri ed anziani, le risposte ce le diamo da soli, no? Ecco, io credo che Milano potrebbe assolutamente scatenarsi in un'impresa del genere che sta in piedi perché ai cittadini che lo frequentano magari viene chiesto un contributo ogni tanto per sostenere le spese delle utenze. I lavoratori che prestano le ore, che regalano le loro ore di impegno per tenere l'apertura sono volontari, non c'è bisogno di così tante persone o di così tante energie. se ci sono un gruppo di 5-6 persone, anzi forse è meglio che non sia così allargato, si possono mettere d'accordo per tenere l'apertura. L'importante è trovare un luogo e secondo me il Comune di Milano è un comune ideale per lavorare insieme ad un gruppo del genere, identificare un luogo e dar vita a una situazione del genere. Grazie mille.